Saluto innanzitutto tutte le partecipanti, tutti i partecipanti e il tema che mi è stato affidato è quello della forma di governo. L'organizzazione di questo incontro è quella che mi è stato detto già conoscete, io farò una esposizione introduttiva, poi ci sarà una breve pausa di qualche minuto e nel frattempo sia durante la pausa che anche in precedenza attraverso la cosiddetta chat potrete pormi le domande alle quali risponderò nella seconda parte del nostro incontro. In ogni caso chi poi volesse interloquire con me più avanti se ne avesse intenzione potrà contattarmi all'indirizzo mail che vi sarà comunicato dall'organizzazione. Partiamo come occorre fare normalmente dalle definizioni, che cosa dobbiamo intendere per forma di governo, perlomeno che cosa intende per forma di governo chi vi parla perché il dibattito tra i costituzionalisti è piuttosto acceso proprio sulla nozione di forma di governo. Io vi posso dire quella che secondo me è una corretta definizione di forma di governo. anzi perdonatemi, faccio anche partire un cronometro per non sbagliarmi sui tempi. La definizione corretta di forma di governo a mio avviso è la seguente, l'insieme delle regole giuridiche dei rapporti fra i poteri e organi costituzionali titolari di attribuzioni decisionali di natura politica. Ora, questa definizione comporta la necessità di alcune precisazioni. Insieme delle regole giuridiche siamo di fronte ad una forma giuridica, forma, è una forma formante direi, che plasma un ambiente giuridicamente rilevante. Regole giuridiche, quali regole? Regole anzitutto di rango costituzionale, ma non soltanto di rango costituzionale perché a comporre la forma di governo entra senz'altro anche il sistema elettorale e come sapete le norme elettorali sono norme di legge ordinaria. Nella ipotesi di revisione della Costituzione di recente presentata dal governo si immagina di costituzionalizzare un sistema elettorale, ma allo stato delle cose ci attestiamo sul diritto vigente, le regole del sistema elettorale sono regole di fonte primaria, cioè legislative. Quindi queste regole giuridiche di cui parlo non sono soltanto regole costituzionali, ma anche regole sub-costituzionali, ma devono riguardare rapporti fra poteri e organi costituzionali. quali sono gli organi costituzionali? Senz'altro quelli menzionati dalla Costituzione, questo va da sé, ma come sapete si discute sulla possibilità di distinguere tra organi costituzionali e organi di rilevanza costituzionale, è una distinzione alla quale io credo poco, ma che comunque non posso fare a meno di menzionare e che si fonda sulla seguente considerazione, ci sarebbero degli organi indefettibili, cioè degli organi che non possono mancare assolutamente pena la perdita d'identità della nostra Costituzione, il Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica, e degli organi che invece, pur essendo menzionati in Costituzione, potrebbero essere eliminati senza che venisse meno questa identità. Pensiamo a la Corte dei Conti o al Consiglio di Stato. di Stato. Questa discussione ci interessa molto limitatamente e l'ho soltanto ricordata per completezza. Il terzo punto è che si deve trattare di organi e poteri titolari e attribuzioni decisionali di natura politica. Ora, che cosa desumiamo da questi tre elementi? Regole giuridiche, rapporti fra poteri e organi costituzionali, titolarità di attribuzioni decisionali di natura politica. Desumiamo anzitutto che noi appunto siamo di fronte ad una forma giuridica e che quando studiamo la forma di governo noi studiamo qualche cosa che non coincide con il sistema politico, con il sistema politico partitico in particolare. La forma di governo anzi è la definizione delle condizioni di possibilità e delle condizioni di sistema entro le quali possono agire gli attori del sistema politico partitico. Una parte della dottrina, come vi accennavo precedentemente, non la pensa in questo modo. Ritiene che un'analisi della foruna di governo in quanto forma sarebbe sostanzialmente inutile, se non addirittura impossibile, e finisce per sovrapporre sistema politico e forma di governo. Io ritengo che questo non sia opportuno anche perché altrimenti si perde la natura prescrittiva della forma di governo in quanto forma. Noi studiamo queste norme costituzionali e anche in parte subcostituzionali per capire che cosa è legittimo fare e che cosa invece non è legittimo fare all'interno di un sistema politico partitico. Questo è il primo punto. Il secondo punto, abbiamo detto, organi costituzionali. Organi costituzionali, questo che cosa vuole dire? Che non ci estendiamo nello studio della forma di governo sino a livello della struttura amministrativa. La struttura amministrativa sta fuori dalla nostra attenzione. Un tempo in una discussione pubblica si parlava di rami alti e rami bassi. Ecco, la forma di governo concerne i cosiddetti rami alti dell'organizzazione pubblica. Il terzo punto, abbiamo detto, attribuzioni che devono essere decisionali e di natura politica. Ora, qui conta soprattutto questo riferimento alla natura politica. A che cosa mi riferisco qui? Al fatto che politica deve essere la discrezionalità esercitata. Non si tratta di politicità degli effetti. E' chiaro che se voi analizzate la vita concreta di una comunità politica, ci sono effetti politici che sono determinati da organi che politici non sono. Pensate a una sentenza importante, che so, del giudice amministrativo su un grosso appalto o una sentenza importante della cassazione penale su una vicenda penalmente rilevante che ha interessato l'intera opinione pubblica. Sono effetti che non possiamo non definire in senso lato politici. Ma che cos'è che manca in questi casi? Manca la discrezionalità politica. E' per questo che, a mio avviso, non rientra nella forma di governo, ad esempio, la Corte Costituzionale. Non ci rientra la magistratura, ovviamente, ma non ci rientra neanche la Corte Costituzionale. Basta pensare all'articolo 28 della legge numero 87 del 1953, che come molti di voi sapranno, ha disciplinato il funzionamento della Corte Costituzionale, nel quale l'articolo 28 si esclude che la Corte possa, nell'esercizio delle sue funzioni, esercitare valutazioni politiche. Si scrive testualmente esclusa ogni valutazione politica. Questo significa che la Corte non può giuridicamente essere inserita nella forma di governo. Anche questa è un'affermazione non universalmente condivisa, ma ne sono profondamente convinto, anche perché abbiamo questo dato normativo della legge 87 del 53, che ha attuato gli articoli 134 e seguenti della Costituzione con un certo ritardo. Eravamo già cinque anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione e altri tre, come sapete, se ne aspetteranno per l'entrata in funzione della Corte Costituzionale, la cui prima sentenza è del 1956. Questa è la nozione di forma di governo. Ma qual è la forma di governo della Repubblica Italiana? Di quale forma di governo stiamo parlando? Ora, la risposta è agevole. Si tratta di una forma di governo parlamentare. In che cosa consiste la natura parlamentare di una forma di governo? E qui già la risposta, apparentemente agevole, in realtà si fa più complessa. Normalmente si dice che una forma di governo è parlamentare quando si fonda sul rapporto di fiducia tra Parlamento e governo, e cioè quando il principio è che il governo non può rimanere in carica se non gode della fiducia del Parlamento. Anzi, addirittura non può entrare in carica in difetto di una fiducia parlamentare. La realtà, però, è che a guardare bene questo non basta, perché i teorici, i primi teorici della forma di governo parlamentare, che è stata una teoria e una prassi, dovete sempre ricordare che il costituzionalismo non è tanto una scienza del diritto costituzionale, ma è una pratica politica. Ecco, per ottenere le conquiste del costituzionalismo che a noi sembrano ormai scontate, acquisite una volta per tutte, e non lo sono affatto, si sono combattute lotte furibonde, sia guerre che guerre civili. Ebbene, i teorici iniziali e i pratici iniziali della forma di governo parlamentare erano convinti di una cosa, che il rapporto di fiducia intanto fosse così essenziale per la definizione della forma di governo in quanto parlamentare, in quanto appunto la legittimazione del governo era una legittimazione derivata da quella del Parlamento, secondo una sorta di catena della legittimazione. I cittadini eleggono i loro rappresentanti e i loro rappresentanti nell'assemblea rappresentativa concedono o meno la fiducia al governo. Quindi la medesima legittimazione è, anzi per essere più precisi, come accennavo prima, una legittimazione dell'esecutivo derivata da quella dell'assemblea rappresentativa. Se manca questo, che era un elemento non detto nella formula tradizionale è parlamentare la forma di governo incentrata sul rapporto di fiducia, e se manca questo elemento della legittimazione derivata siamo fuori dalla forma di governo parlamentare. Se la legittimazione del governo è autonoma rispetto alla legittimazione delle Camere delle assemblee rappresentative, ci troviamo fuori dalla forma di governo parlamentare. Ulteriore quesito. Ma perché è parlamentare questa forma di governo? Le ragioni che indussero i costituenti a questa scelta sono molto note e gli ascoltatori sono molto qualificati e mi perdoneranno se dico cose che appariranno loro anche piuttosto banali e scontate. Le ragioni, insisto, che indussero i costituenti a questa scelta sono ragioni abbastanza trasparenti. Una prima è una ragione talvolta sottovalutata, e cioè la continuità, la tradizione. Anche nei passaggi di regime, anche nei passaggi storici e più traumatici, si conserva sempre una memoria del passato. C'è sempre un elemento in qualche misura di continuità, magari non con il passato immediatamente precedente, ma con il passato ancora anteriore. La tradizione del nostro paese era la tradizione del parlamentarismo. Il nostro paese aveva conosciuto prima la forma di governo monarchico costituzionale e poi la forma di governo parlamentare. In che cosa si distingue la forma di governo monarchico costituzionale dalla forma di governo parlamentare? È proprio in quell'elemento che abbiamo detto essere talvolta dimenticato, ma che in realtà è essenziale, e cioè della doppia legittimazione. Nella forma di governo monarchico costituzionale, le legittimazioni erano due, era una forma di governo duale, perché alla legittimazione popolare delle assemblee rappresentative, il popolare per modo di dire ovviamente perché sapete bene che il suffragio era molto limitato, alla legittimazione popolare delle assemblee rappresentative si contrapponeva la legittimazione divina o divino tradizionale del monarca. Quindi erano due legittimazioni, una contrapposta all'altra. Nella forma di governo parlamentare invece, come accennavo prima, questa duplicità delle legittimazioni viene cancellata e c'è una legittimazione che è quella popolare che investe le assemblee rappresentative e poi la legittimazione dell'esecutivo è una mera legittimazione derivata. Ebbene, la tradizione dell'Italia prima del fascismo era proprio quella del parlamentarismo. non voglio con questo, attenzione, prendere una posizione favorevole rispetto all'idea che il fascismo sia stata una parentesi nella storia politica e istituzionale del nostro paese, sapete bene le polemiche sulla posizione di Croce. Dico semplicemente che quando i costituenti si trovarono a ripristinare le condizioni di funzionamento di un sistema democratico e liberale, pesò sulle loro scelte anche il fatto che alcune forme di governo per loro erano sostanzialmente sconosciute o conosciute soltanto sui libri, pensiamo alla forma di governo presidenziale, mentre la dimestichezza l'avevano con la forma di governo parlamentare che era la forma di governo dell'Italia che aveva preceduto la tragedia del fascismo. Quindi questo primo elemento spiega, come dire, in modo inerziale l'attenzione dei costituenti nei confronti della forma di governo parlamentare. Ma c'è molto di più. la ragione più profonda è un'altra. La ragione più profonda che mosse i costituenti fu il convincimento che il nostro era, ed è tuttora, un paese molto complesso. Un paese molto complesso che aveva un sistema politico-partitico estremamente variegato. Attenzione, il sistema politico-partitico alla metà degli anni Quaranta, quando si andava scrivendo la Costituzione, quindi dal Quarantasei, era ancora embrionale, ma era del tutto evidente che non c'era, come dire, una compattezza del sistema politico-partitico che potesse fare immaginare né a un immaginare un bipolarismo né men che meno un bipartitismo sul modello tradizionale del parlamentarismo inglese. Ebbene, proprio se il parlamentarismo aveva dimostrato di saper funzionare bene in un ambiente politico-partitico semplificato come quello inglese, a maggior ragione sembrava la scelta più opportuna in un sistema complesso e in un sistema molto articolato e con differenziazioni estremamente radicali qual era quello dell'Italia che si affacciava alla democrazia nella seconda metà degli anni Quaranta. In un sistema di quel genere i costituenti ritennero che fosse necessario non soltanto munirsi di un'assemblea rappresentativa, ma questo diciamo che era banale e scontato, senza una rappresentanza politica, noi oggi non riusciamo neanche a immaginare un buon funzionamento della democrazia, e ritennero appunto di non accontentarsi della esistenza di un'assemblea rappresentativa ma ritennero che fosse necessario fare di questa assemblea rappresentativa il motore, il motore della forma di governo. Il motore della forma di governo. Attenzione, una precisazione è forse necessaria. Noi parliamo di democrazia rappresentativa, ma questa è una formula in qualche misura contraddittoria perché un conto è il modello della rappresentanza, una cosa è il modello della rappresentanza e altra cosa è il modello della democrazia. La democrazia in senso proprio quella che avevano in mente i teorici delle forme di governo nell'antichità da Platone, per cominciare da Erodoto ovviamente, per poi andare a Platone, ad Aristotele, a Polibio e allo stesso Cicerone la democrazia che avevano in testa era la democrazia nella quale il popolo riunito in assemblea sulla pubblica piazza decideva delle questioni popolari. in sistemi complessi, nelle democrazie dei larghi spazi questo non è possibile e quindi il sistema rappresentativo ha preso il posto della formula democratica pura e quando noi parliamo di democrazia rappresentativa mettiamo insieme due cose che in realtà sembrano concettualmente e antitetiche e che sono conciliate nei fatti pragmaticamente dalle esigenze della storia. Questa scelta di una democrazia rappresentativa che fosse in particolare di tipo parlamentare era dunque motivata dai rapporti di forza, dai rapporti reali tra i partiti politici nel momento in cui la Costituzione si andava scrivendo. C'era una forte intenzione di collaborazione di intesa comune ma c'era anche, lo sapete molto bene, una qualche diffidenza reciproca. questo noi lo vediamo non soltanto nell'opzione in favore della forma di governo parlamentare in luogo della forma di governo presidenziale ad esempio, ma lo vediamo anche nella scelta del sistema elettorale. L'Assemblea Costituente fu eletta con un sistema proporzionale, la legge elettorale votata dall'Assemblea Costituente per le successive prime elezioni politiche fu una legge elettorale proporzionale e questo era dovuto al fatto che insomma c'era una qualche diffidenza e nessuno voleva perdere tutto e nessuno voleva che il proprio avversario vincesse tutto. Grande volontà di collaborazione nella scrittura delle regole ma anche grande diffidenza dovuta agli equilibri geopolitici del momento con il mondo diviso sostanzialmente in due blocchi. Noterete peraltro che in Costituzione, come vi accennavo proprio in apertura, di sistema elettorale in realtà non si parla. La scelta fu a favore della proporzionale ma i costituenti volutamente non costituzionalizzarono la proporzionale perché ritennero che ove i rapporti tra le forze politiche fossero cambiati successivamente si sarebbe anche potuti passare a sistemi elettorali diversi anche addirittura maggioritari e in effetti questo è successo nella nella tormentata e variegata vicenda delle molteplici trasformazioni della nostra legislazione elettorale nella storia repubblicana. Quali sono i meriti di questa forma di governo? Il merito è connesso alle ragioni della scelta ovviamente. In un sistema a contrapposizioni così forti soprattutto inizialmente in un sistema così complesso la forma di governo parlamentare è riuscita a fare qualche cosa di particolarmente importante. Ha fatto sì che il Parlamento fosse il luogo vero del confronto democratico, il luogo vero della mediazione e del compromesso, parola che, permettete il gioco di parole, è oggi molto compromessa, perché viene il concetto di compromesso viene sostanzialmente caricato di un significato negativo mentre invece la logica del confronto parlamentare è proprio quella della mediazione tra varie posizioni. Ebbene questo il Parlamento italiano è riuscito a fare e ha consentito al Paese di superare prove terribili dalle plurime crisi economiche all'omicidio di Aldo Moro e della sua scorta, dalle tentazioni secessioniste al terrorismo nero e via discorrendo, insomma ne abbiamo passate di cotte e di crude per dirla con un linguaggio familiare. Ebbene questa forma di governo parlamentare ha consentito alle forze politiche di interloquire in una sede idonea quale il Parlamento in modo tale anche da stemperare le contrapposizioni. Ci sono però stati dei prezzi che si sono pagati e in particolare si è insistito da più parti sulle due questioni della governabilità e della stabilità. qui, attenzione, bisogna però intendersi. Bisogna distinguere tra formula politica e durata dei governi. Sapete che nel linguaggio giornalistico, ma ahimè anche ormai nel linguaggio scientifico, è invalsa l'abitudine di distinguere tra una prima e una seconda repubblica. È una formula che non ho mai utilizzato e mai utilizzerò perché le repubbliche si numerano in ragione di fratture costituzionali che non ci sono state da noi. Quindi non parlerò di prima repubblica. Parlerò di un sistema politico anteriore all'inizio degli anni 90 nel quale, come sappiamo benissimo, c'era una grande stabilità della formula politica perché c'era un partito di maggioranza relativa che attorno a sé, per la sua capacità egemonica, raccoglieva con formule diverse partiti minori con i quali si alleava ora a sinistra, ora a destra, ora più a sinistra, ora a destra. Questa stabilità della formula politica era del tutto evidente, ma si accoppiava a una instabilità dei governi. Quindi quando parliamo di stabilità dobbiamo stare accorti, distinguere tra stabilità della formula politica e stabilità dei governi. Stabilità significa durata dei governi. Ebbene i governi hanno avuto sempre una durata molto limitata nella nostra esperienza costituzionale, nella nostra esperienza costituzionale repubblicana. Le ragioni sono molte, tenete però presente che i governi sono sempre caduti non tanto perché sono stati incalzati dalle opposizioni, ma per contraddizioni interne alla maggioranza di governo. Magari anche semplicemente per la lotta per la conquista della presidenza del Consiglio. Prima era una lotta interna al partito di maggioranza relativa, cioè alla democrazia cristiana, per essere espliciti. Poi si è trattato di una lotta interna alla coalizione di governo quando è stato possibile, anche ad altri partiti della coalizione, accedere alla presidenza del Consiglio. Poi si è trattato di vere e proprie conflagrazioni interne alle maggioranze di governo che fossero di centro-sinistra o che fossero di centro-destra. Questo è dovuto alla struttura del nostro sistema politico-partitico, in parte è dovuto anche a una certa debolezza dello spirito repubblicano e anche di quello che potremmo chiamare patriottismo costituzionale, e cioè di quegli elementi che cementano l'unità di comunità politiche diverse dalla nostra. L'esperito repubblicano, per esempio, è fortissimo. In Francia, come sappiamo, il patriottismo costituzionale è assai sviluppato in Germania. Qui, permettetemi di aprire una piccola parentesi, quando si parla di patriottismo costituzionale, la mente va soprattutto alle elaborazioni di Jürgen Habermas, ma la formula patriottismo costituzionale, cioè proprio Verfassungspatriotismus, risale a Dolph Sternberger, che l'aveva elaborata quando la Germania era divisa in Germania occidentale, Repubblica federale tedesca, Germania orientale, Repubblica democratica. E l'idea di Sternberger era quella di trovare un punto comune tra queste due Germanie per fare sì che si ricostituisse, ancorché nella divisione formale di due stati, una sorta di comunità tedesca. Chiudo la parentesi per chiarezza concettuale. In queste condizioni, però, debolezza dello spirito repubblicano e del patriottismo costituzionale, lotte interne al partito di maggioranza relativa alla coalizione di governo è stato fatale che assumesse un ruolo molto importante per la tenuta della forma di governo il capo dello Stato. E questo lo abbiamo visto in modo variabile nella nostra storia repubblicana. Giuliano Amato ha parlato di una sorta di struttura fisarmonica, ha detto, dei poteri del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica effettivamente varia il peso della sua azione in dipendenza della maggiore o minore solidità della compagine, della maggioranza che sostiene la compagine governativa. Però attenzione, attenzione quando parliamo di capo dello Stato. E ci tengo a sottolineare un punto. in Costituzione capo dello Stato si scrive con una minuscola e una maiuscola. La maiuscola è stato e la minuscola è capo. La Costituzione vuole dirci due cose quando parla di capo dello Stato. Vuole dirci la cosa forse più evidente che il capo dello Stato è colui che rappresenta l'unità nazionale e la rappresenta anche all'esterno. È una sorta di personificazione della Repubblica una volta che la nostra Repubblica si presenta sullo scenario internazionale. Ma capo da un certo punto di vista sta a significare anche un'altra cosa che il Presidente della Repubblica è anche come il capo nel senso del punto terminale di una matassa. Perché il Presidente della Repubblica ha esattamente questa funzione, l'ha sempre avuta ed era stato anche concepito in questo modo dai costituenti. La funzione di dipanare la complessa matassa istituzionale, l'intricata complessità dei rapporti tra forze politiche, tra organi costituzionali, in modo tale da garantire linearità, continuità nella azione dello Stato. A me piace parlare del Presidente della Repubblica come di un giroscopio costituzionale. Il giroscopio è quel meccanismo che consente ad esempio a un missile di non cadere al suolo perché ne garantisce l'equilibrio. Ebbene, il Presidente della Repubblica ha esattamente questa funzione, una funzione equilibratrice, una funzione di risoluzione delle complessità attraverso un'azione che ovviamente è un'azione che non contempla la possibilità di costituzione di un partito del Presidente, ma richiede una grande abilità che starei per dire diplomatica di chi assolve questa funzione. Questo ci dimostra la storia della nostra forma di governo. A fronte però della instabilità degli esecutivi intesa come breve durata dei singoli governi, buona parte della dottrina costituzionalistica dei politologi, dei teorici e filosofi politici ha sostenuto la tesi che la nostra sarebbe una forma di governo non razionalizzata oppure a bassa razionalizzazione. Si è ricordato che in Assemblea Costituente l'esigenza di una razionalizzazione della forma di governo era stata messa in evidenza da Tommaso Perassi che aveva fatto approvare il suo famoso Ordine del Giorno che proprio andava in questa direzione e quindi si dice che la nostra sarebbe una forma di governo a bassa razionalizzazione. Ma che cosa si intende per razionalizzazione di una forma di governo? Ora, la razionalizzazione viene sovente, sbagliando, scambiata per il rafforzamento dell'esecutivo. Cioè sarebbe razionalizzata la forma di governo parlamentare nella quale ci sono meccanismi di rafforzamento dell'esecutivo e sarebbe non razionalizzata quella forma di governo che invece questi meccanismi non li prevede. In realtà il sintagma razionalizzazione della forma di governo ha una precisa paternità. questa paternità è da scrivere a Baris Mirkin Gezevich. Lo pronuncio alla francese perché fu naturalizzato francese, era nato in Russia, anzi per essere più precisi, in Ucraina, a Kiev. E poi aveva vissuto e professato a Leningrado anche. Ma Mirkin Gezevich poi visse in Francia e aveva anche una fase di immigrazione negli Stati Uniti, fuggendo dal nazismo. E Mirkin Gezevich aveva elaborato questa idea della razionalizzazione la forma di governo parlamentare, intendendo però che cosa era la razionalizzazione per Mirkin Gezevich che scriveva queste cose nel ormai lontano 1931 in un famoso saggio che si chiamava La nouvelle tendance du droit constitutionnel. Per Mirkin la razionalizzazione altro non era se non l'assoggettamento del fenomeno politico al diritto. Ecco questa era la razionalizzazione per Mirkin. Poi certo Mirkin Gezevich era a favore del rafforzamento degli esecutivi ma non perché quella fosse la razionalizzazione ma perché egli intendeva che il rafforzamento e la stabilità del governo dovevano essere intese appunto come esigenze tecniche del parlamentarismo contemporaneo. Cioè la forma di governo parlamentare, sosteneva Mirkin Gezevich, non avrebbe funzionato bene se il governo non fosse stato stabilizzato, rafforzato. Allora, precisato che cosa si intende per razionalizzazione. Ma anche a voler dire che razionalizzazione è qualche cosa di più e cioè una sorta di rimedio all'autoreferenzialità del parlamentarismo, all'autoreferenzialità della rappresentanza politica. Se vogliamo anche dire che la razionalizzazione è un temperamento del parlamentarismo e anche una stabilizzazione dell'esecutivo, ci dobbiamo chiedere se ci sono nella nostra Costituzione elementi di razionalizzazione. Alcuni lo negano, io personalmente ritengo che questi elementi ci siano elementi di razionalizzazione e comunque di correzione del parlamentarismo e anche di rafforzamento dell'esecutivo. Pensiamo agli articoli 76 e 77 della Costituzione che prevedono una compartecipazione molto significativa dell'esecutivo all'esercizio della funzione legislativa. L'articolo 76 i decreti legislativi delegati, l'articolo 77 i decreti legge. Anzi, una compartecipazione che ormai ha assunto dei toni quasi assorbenti, quasi totalizzanti. Sapete tutti che le statistiche, i numeri ci dicono chiaramente che la parte maggiore della legislazione è ormai occupata da decreti legge, soprattutto da decreti legge ovvero da decreti legge legislativi. Pensate però anche all'articolo 94 della Costituzione e cioè alla disciplina della mozione e della questione di fiducia che impedisce o dovrebbe rendere più difficili le cosiddette imboscate al governo in Parlamento. Pensate poi, sempre come correttivi del parlamentarismo, a due istituti di grande novità della nostra Costituzione. L'articolo 75 il referendum abrogativo, gli articoli 134 e seguenti la Corte Costituzionale. L'articolo 75 il referendum abrogativo non può essere sottovalutato. So bene che da parte di qualcuno si critica la scelta dei costituenti, si dice ma i costituenti furono troppo timidi, non avrebbero dovuto prevedere soltanto il referendum abrogativo, oltre che il referendum costituzionale, i referendum regionali e locali ovviamente. non avrebbero dovuto prevedere soltanto quello, ma avrebbero dovuto prevedere anche un referendum approvativo o propositivo. La verità è che chi sostiene questo non si rende conto della straordinaria novità che i costituenti introdussero nel nostro ordinamento e anche dal punto di vista del diritto comparato. perché il nostro referendum abrogativo è anzitutto un referendum legislativo, sì certo soltanto abrogativo ma legislativo. Ed oltre è un referendum legislativo su scala nazionale, non su scala soltanto locale, o pensate nei sistemi federali non soltanto su scala statale ma sarebbe l'equivalente della scala federale. Quindi il referendum abrogativo è un elemento estremamente importante di correzione del parlamentarismo, di modificazione anche della logica del funzionamento del sistema parlamentare e questo lo abbiamo visto nella nostra stessa esperienza costituzionale. pensate alle importanze che ha avuto il referendum sul divorzio o all'importanza dei referendum elettorali. E poi la corte costituzionale, una corte costituzionale inizialmente avversata da alcune parti politiche, in particolare dai vecchi liberali e anche dallo stesso partito comunista, perché tutti gli atti parlò della corte con una bizzarria. Poi le opinioni cambiarono nel corso dei lavori, dei lavori alla costituente, una corte costituzionale alla quale sono stati dati poteri estremamente penetranti dal sindacato di costituzionalità sulle leggi alla decisione sui conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato, fra Stato e Regioni, al giudizio penale nei confronti del Presidente della Repubblica. Quindi elementi di razionalizzazione molto forti, però anche elementi di debolezza del disegno costituzionale e in particolare il bicameralismo assolutamente perfetto. Ovviamente quando si dicono queste cose all'uomo della strada o alla studentessa o allo studente bisogna precisare che bicameralismo perfetto non significa bicameralismo senza difetti, ma certamente il pubblico che mi ascolta oggi non ha bisogno che faccia questa precisazione. Bicameralismo perfetto è un bicameralismo nel quale la Camera e il Senato fanno esattamente le stesse cose e questo ha determinato un appesantimento dei lavori parlamentari e anche un certo malfunzionamento. Questo sarebbe un punto sul quale forse meriterebbe di intervenire. Avevo in animo di commentare insieme a voi gli articoli, molto sommariamente, ovviamente da 55 a 96 della Costituzione, ma vedo che il tempo manca perché mi ero prefissato di parlare per 45 minuti, ci siamo quasi, sforerò di poco. Volevo soltanto invitarvi a riflettere su un punto. La parte seconda della Costituzione si apre con l'articolo 55 e come si apre questa seconda parte? Si apre con il Parlamento, si apre, la Costituzione esordisce nella disciplina della parte organizzativa proprio disciplinando il Parlamento, la sua organizzazione, le sue funzioni. Questo è molto significativo, è molto importante, anche se a uno sguardo superficiale potrebbe non sembrare, è molto importante la topografia delle Costituzioni. Quando dico topografia intendo la collocazione di questo o di quell'argomento, di questo o di quel tema in un certo punto del testo costituzionale. È molto significativo che si esordisca con il Parlamento, a confermare quello che vi dicevo precedentemente, e cioè che i Costituenti non vollero semplicemente un Parlamento, pur che fosse, ma ne vollero fare il motore della forma di governo e scelsero quindi una forma di governo parlamentare. Questo è molto importante. Avere accennato alla parte organizzativa della Costituzione però mi impone una ulteriore precisazione e poi concluderò con una sollecitazione. La precisazione è questa. Seconda parte della Costituzione e prima parte della Costituzione sono ovviamente formalmente separate, una la prima, una la seconda, prima ancora ci sono i principi fondamentali e dopo ci sono le norme transitorie e finali. Ma si tratta di una suddivisione o di una separazione? La mia risposta è che si tratta di una semplice suddivisione formale, non di una separazione. Quella che ho chiamato Costituzione dei diritti non può essere separata dalla Costituzione dei poteri, cioè non si può immaginare che ci sia una Costituzione su diritti e doveri fondamentali dei cittadini e poi una Costituzione che si occupa dell'organizzazione. C'è una coerenza nel disegno costituzionale tra prima e seconda parte della Costituzione, sicché ogni volta che si incide nella prima si tocca anche non volendo la seconda, ogni volta che si incide sulla seconda si tocca non volendo anche la prima. Questa precisazione è importante perché fa comprendere quanto sia delicato, difficile, complesso maneggiare una Costituzione, mentre non sempre questo viene percepito con la dovuta precisione. La sollecitazione con la quale voglio terminare è questa. Se lo riterrete opportuno ci possiamo interrogare sul se sia necessario modificare la Costituzione, in quali passaggi, per quali profili, verso quale direzione, alla luce delle cose che abbiamo detto fino adesso. Ovviamente ce lo possiamo chiedere in questa sede solo ed esclusivamente nella prospettiva tecnico-giuridica dell'analisi del buon funzionamento di una forma di governo, restando del tutto fuori perimetro della nostra attenzione le valutazioni di ordine politico.